Quello della partecipazione popolare è un tema veramente molto importante per la città di Fano e lo si vede anche dal progetto sperimentale, dal bilancio partecipato che abbiamo voluto attivare proprio per confermare l'importanza di questo tema. Sono tanti i cittadini e le associazioni di quartiere che hanno partecipato, che ci hanno chiesto e hanno presentato attività strutturali importanti per la città di Fano, per far crescere la città di Fano. In totale 72 progetti, è già stato realizzato un primo incontro con le 30 persone che faranno parte della giuria popolare, molto attive, che in un qualche modo stanno valutando tutti i progetti interessati. Sono 48 i progetti validi, di questi 48 ne usciranno 14, ma a parte tutto questo, a parte la realizzazione di alcuni progetti chiesti dai cittadini, si conferma un progetto molto bello il fatto che sono i cittadini a dirci cosa ha bisogno alla città e quindi danno un input direttamente all'amministrazione per le cose da realizzare. Andremo avanti con forza in questo percorso, con l'idea ovviamente di migliorarlo anche per gli anni futuri. Quando terminerà tutto questo iter propedeutico? Allora, questa è la seconda fase che è quella del gruppo tecnico giuria popolare di valutazione dei progetti. Parallelamente si vedrà anche la città delle bambine e dei bambini per valutare i loro, perché come sapete nei 200 mila euro di investimento un quarto, quindi 50 mila euro, sono destinati ai progetti delle bambine e dei bambini delle scuole elementari scelti dal Consiglio. Quindi anche loro valuteranno e si vedranno per valutare i progetti. Questa fase di valutazione terminerà alla fine di febbraio e ipotizziamo dal 26 febbraio fino all'8 marzo, orientativamente ma ne daremo conferma più precisamente, ovviamente ci sarà la terza fase che è quella del voto online, quindi dopo l'8 marzo avremo le risposte di quelli che sono i progetti scelti sia dalla cittadinanza, quindi i progetti degli adulti, così possiamo definire, e anche quelli dei più piccoli. Grazie.